no bella a tutti qui è aderio google e oggi sono di nuovo con il mio amico aldo su questa mappa di ma è che fuori tavolo e oggi sentiamo e questo sull'agere sentiamo l'ultima mappa l'ultimo capitolo non so come si potrebbe l'ultimo capitolo si di il bravo ok per la porta un secondo di chiudere e perchè si può no niente la cesta s s questo questo la donna nera che cazzo di bestemmia no no non è una bestemmia, c'è una donna nera che va attaccare madonna nera ma esistono i zombie di colore? no, era tipo tutta nera mi sono andata e cosa o ci metti anche dentro ci metti anche dentro mi credo che un po' le scale non ci sono più vero dovevano farlo che continuavano stupidi ideatori, non qui è brutto eh ma io ti ho dato un'idea non si può mettere nel fuoco sennò si piuce tutto ah come facciamo? boh no proprio zombie stai facendo un mare di zombie sto guardando per la zona per vedere dove potevo mettere città non ha più porco dio zoi di merda che scherzo stanzi che scherzo stanzi ehm spara lo che scrivendo che credendo che ero una zombie credendo che ero una zombie solo perché nera? bravo ma sai che stupide queste scale? che sale c'è un pezzo di lana non so dove potevamo metterci Aldo ah no ah no 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 nobody else ci mettiamo lassù? eh? sto chiamando una canzone da finocchi si va ci mettiamo quassù Aldo eh dove è quassù? eh qui eh dove vuoi andare qui su? ah ok ho inizionato a chiamare il coglione lì che mi sembra come il cazzo spazio devo che tu si parlo per la prima volta perchè quanto volta puoi parlare? una e poi due e niente ma ecco perchè non andava l'altra volta vado boh se vuoi ok ok io riesco sulle scale sulle scale sulle scale ma appunto che per me non mi sale la scala ecco ma perchè ti chiamo perché stanno giù fidi tutte le porte ma tanto le spaccano è buono per l'inizio fanculo a luis oh vedo uno smoker vado a prendere il cecchino ah mi spieghi perchè cazzo stanno giù o due sono deficienti ancora la scuola cazzo cazzo ma anche i tipi possono perdere che stupido sto smoker ah ma posso scarpe fatti come te l'ho detto ma già spaccato la porta smoker si è spostato pezzo di merda ahia si è caduto veramente viva l'intelligenza umana palestra connessione oh ecco e qui boom e figa scuola cazzo 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 aiuto a far far abbiamo abitato addosso per tutto le aderra che schifo bene da piazza no non mi piace stiuta fisti hai quattro amico smoker era qua lei uccide ehm il mio suorire il nucleo che vuole cavato ma stupi oh ah mio dio mi piace buttarli giù a mano a mano lavoro a mano poi intenziale voi ah che pare continuare a vedere cari percorso il mongoli ti seguono e perchè questa mappa ti viene ahia c'è uno smog in giro mamma ha preso e buttare in una scondiglia se la sposto bene l'ho ammetto nell'angolino amo here ho dov'è il tanto cazzo cazzo corre scappaci corre scappaci e va fa culo c'è anche tu dov'è? 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 ho avvivo ahia cazzo ma era debito sto c'è un'altra se vuole lo sperato anch'io chi è che da protetto? ah ah nante cazzo muore bastardo mi ricordo ma dai vai mi voglio vedere se c'era la barca ma ta ma mi sa che si sente oh cazzo cazzo come sa dove era pipe monon non ce l'abbiamo vado a prenderla ma sai dove sono sì perchè prima quando siamo morti però mi sono allontanato troppo ah non sei lungo lo sai sì scusa ecco lo buttate siamo già messi male adesso tenere di conto c'è un boomer di merda ok poi vedo co mi cura st vieni dentro la casa dove sei? e io la casa lo 40 rischio uccidere no ma tornate dentro stupido di computer inutili lui aia ma come fa? o gira ti gira ti gira aia ho fatto entrare in casa quel bastardo e sai che ti vuoi che ci sono in questa casa da dove è venuto sto guarda? aia no dalla finestra ho fatto spazio in testa a te c'è un boomer aia ma tutti ma c'era uno che non mi becca ma per cazzo ma come mi becca vieni Aldo vieni qua dove c'è il cammino e curati ah ma è intorno da qua e boh tu curati io cerco di proteggerti grazie grazie tanto ci sono le eschei davanti a noi quindi ahahah se me invece di spazio mi sto facendo più male ai nostri compagni che ai zumbi c'è un altro tempio già non so trema tutto dove si c'è un tempio strema tutto dov'è? una domanda sento che si avvicina ma non so dove dove? oh anche le belle scale 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 ecco lui si è fottuto aia 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 pezzi di merda aia è morto andiamo a vedere levati la barca non c'è non c'è si arriva senti il rumore sicuro? si lo sto sentendo vieni si mettendo sicuro che la barca ah si ecco vedo la luce perchè l'altra volta non ce l'abbiamo fatta e stavolta è stato troppo facile eh ma perchè l'altra volta due erano morti ah bom ecco affermati api buon mio ci sono oh oh che figlio fuck yeah fuck yeah cazzo è che è stato troppo facile stavolta si è vero ma mi sa che hai messo difficoltà difficile qui l'altra volta no è sempre stato normale sicuro sono fuggiti è stato facile o forse siamo troppo forti lui sta nella parte di se stesso the real girl nella parte di Francis e in blu ovviamente perché io sono quello principale anche io sono in blu ah ma perché no niente qua abbiamo fatto zero tutto perché siamo ben entrati stamattina tubi bomba anteluccio 5 boomer smoker 2 ho fatto solo io cazzo no ma ancora che troppo adesso è stato proprio più schifoso a te 13 vedi ho fatto tutto io 6% di colpi la testa è il mio vergogno 621 zombie sono stati feriti durante la la faccia di questo film 300 che bro questa parte non metterla no dai ci sta lo stesso è un'umiliazione buon qua abbiamo finito spero che vi è piaciuto questa mini serie della mappa abbandonata la partita ragazzi si e boh cosa stavo fai e boh qua niente qui è the real girl con il mio amico mi unisco se vuoi ecco no no stai lì bella bella bella